Ogni sera da questi studi vi presento un santo, un beato della Chiesa Cattolica. Ma i santi e beati non sono uomini o extraterrestri che nessuno ha mai conosciuto. Abbiamo l'onore questa sera di avere ospite con noi il signor Lino Zani con il suo libro Era Santo, Era Uomo. Il signor Lino Zani è la guida alpina di San Giovanni Paolo II. Quindi ha potuto parlare, vivere con questo santo. Ma adesso chiediamo a lui appunto cosa vuol dire vivere con un santo. Beh, sicuramente io ho passato 21 anni con Giovanni Paolo II, che è il santo. In quegli anni io sono stato la sua guida sugli sci, sulle montagne. Ci siamo conosciuti in questa vacanza segreta, che doveva essere segreta. Poi invece la presenza del nostro presidente di allora, Sandro Pertini, l'ha rovinata un po' questa sua vacanza. Però in quei giorni è nata questa grande amicizia, io la chiamo l'amicizia, di due montanari. Due montanari che si sono conosciuti in montagna, ma due grandi appassionati di montagna. Sulla montagna, sicuramente la montagna unisce, perché siamo molto vicini anche al Signore. Abbiamo questi spazi enormi e così abbiamo passato questi 21 anni in giro per le montagne. Io solo oggi mi rendo conto della fortuna che ho avuto di vivere queste giornate all'aria aperta, giornate di svago, non solo giornate ludiche quando andavamo a sciare, ma anche giornate di grande preghiera. Lui trovava in questi posti dei momenti in cui si fermava e iniziava questa grande preghiera. Stava anche delle ore fermo su un sasso, sembrava neanche più sulla terra. Sembrava ormai già vicino al Signore e iniziava queste sue grandi preghiere. Anche sugli scii, certe volte si fermava, si appoggiava i bastoni e iniziava questa preghiera incredibile, così mistica, così distaccata proprio dalla terra. Diceva che anche il presidente Sandro Pertini, un grande presidente degli italiani, che era ateo, ricordiamo, ha avuto una grande amicizia con Giovanni Paolo II. Io li ho conosciuti in quell'occasione, nell'84. erano veramente molto amici, il nostro presidente scherzava molto con il Santo Padre. Per dirvi una battuta incredibile che c'è stata al rientro del primo giorno, quando siamo tornati dalla prima mattinata di sci, il Santo Padre sale nella stanza a cambiarsi per andare poi a fare questo pranzo e il presidente va in cucina e chiede alla mamma cosa ha fatto di buono oggi Signora Carla. e noi avevamo preparato un piatto particolare, avevamo preparato gli strozza preti. Quindi il nostro presidente incontra il Santo Padre e va dall'altra parte e dice Santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensate come era diretto, scherzava molto con il Santo Padre. Bellissimo questo episodio. Allora, signor Lino, un episodio, una parola, qualcosa di intimo che ha lasciato a lei proprio il Santo Padre, San Giovanni Paolo II. Beh, forse mi ha lasciato tanti messaggi perché in tanti anni che ci siamo frequentati parlavamo di tante cose, ma forse uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato, proprio parlando come alpinisti. Quando io sono rientrato nel mio primo 8000, ho scalato questa montagna, 8200 metri, e andavo a Roma e gli portavo queste foto raccontando queste spedizioni perché ogni volta che partivo mi regalavo una croce da portare su queste cime più alte della terra. e le ultime due le abbiamo portate al Polo Nord e al Polo Sud nel 2001, dicendo una messa a Pasqua al Polo Nord e una messa a Natale al Polo Sud. Però nel 1988, quando rientro a questa mia prima scalata, a questo 8000, il Santo Padre, guardando questa foto, sono in cima a 8200 metri, con una croce in mano, con il mondo sotto, mi dice «Ma Lino, ma cosa ti spinge andare là in cima su quelle montagne?» E io gli dico «Ma noi alpinisti ogni metro che facciamo, soprattutto su queste montagne, abbiamo una visuale completamente diversa dalla terra, ma noi vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte, perché noi scalando vediamo sempre un pezzo di montagna, ma non vediamo mai cosa c'è dall'altra parte». E lui con la foto in mano mi dice «Ma guarda Lino, dall'altra parte si può andare una volta sola?» Io avevo poi 27 anni e ho detto «Beh, spero di andarci il più tardi possibile». E poi sempre con questa foto in mano mi dice «Ma Lino, a noi montanari, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere». Io tornando a casa ho cominciato a pensare a questa frase «Dalla cima si può solo scendere». E penso come alpinista, dico «Ma sì, una volta che siamo arrivati là in cima cosa possiamo fare?» Non possiamo fare altro che girare i nostri scarponi e scendere dalle montagne. Però nella discesa la maggior parte delle volte succedono i maggiori incidenti, le morti, perché siamo stanchi, distratti, non abbiamo più quell'adrenalina per andare sulla cima. Però poi penso così. Quando ci rivediamo dopo un mese, un mese e mezzo, che inizia le sue vacanze estive, ci rincontriamo e camminando in montagna chiedo «Ma Santo Padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere?» E lui dice «Ma Lino, tutti noi nella nostra vita abbiamo una cima da raggiungere. Fin da ragazzi, prima c'è la scuola, le medie, gli esami, poi il lavoro. Ogni cosa della nostra vita è una cima. Però la vera difficoltà è il saper rinunciare e il saper tornare indietro, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Quindi questo messaggio che lascio a tutti è «Dalla cima si può solo scendere?» Perché tutti noi abbiamo una cima e dobbiamo saper rinunciare nella nostra vita, che sicuramente ci offre tante rinunce da affrontare. L'ultima domanda, signor Lino. Il libro «Era santo, era uomo». Ecco, non dico di dirci cosa c'è scritto, se no nessuno lo compra. Ma da cosa è nata questa passione, questa idea di fare un libro per lasciare questa testimonianza in cui ci sono davvero tante belle fotografie. Beh, è un libro che si legge velocemente perché è un libro che racconta la storia di questi due montanari che si sono incontrati su questa montagna e poi questa montagna che li unisce e che poi lui tornerà altre volte su questa montagna. Poi all'interno del libro c'è la storia della mia famiglia, di come viviamo noi in questa montagna, ma soprattutto poi c'è questa storia bellissima di questi due montanari che si incontrano e che poi continuano per 21 anni questo percorso sulle montagne. Grazie, signor Lino, grazie che è venuto negli studi e grazie a te la Vallassina che ha voluto portare nelle vostre case questa splendida testimonianza proprio di un santo che ha camminato in mezzo a noi, San Giovanni Paolo II. Grazie a tutti.